eccoci proponiamo ora di calcolare questa trave ovvero di scrivere l'equazione differenziale della linea elastica di questa trave risolverla quindi trovare la funzione della linea elastica e di determinare rotazione e abbassamento del punto A è una trave incastrata nell'estremo B caricata nell'estremo libero con un carico concentrato P e allora diciamo subito che l'equazione differenziale della linea elastica è come sappiamo questa equazione che si può anche scrivere in questa forma più compatta ora il diagramma del momento di questa trave è un diagramma di questo tipo vada con legge lineare è negativo perché sono tese di fibre superiori e quindi per convenzione negativo e si può anche scriverlo in forma analittica questo diagramma la funzione del momento mz sarà uguale a P per in una generica scissa z il momento dato da P per questa distanza il sistema di riferimento degli assi è questo l'asse z coincide con l'asse baricentrico della trave e allora sostituiamo m questo valore ecco qui però c'è il segno negativo perché abbiamo detto il diagramma è negativo c'è anche qui un segno negativo e allora diventa questa è un'equazione differenziale per risolverla e cioè trovare la funzione y che è l'incognita dobbiamo integrarla due volte integriamola una prima volta rispetto a z la primitiva di questa funzione è y' cioè la funzione che è derivata da questa P e sono termini costanti ma hanno fuori la primitiva di z è z al quadrato mezzi più la costante c1 ordiniamo scriviamo y' ecco questa è la funzione che abbiamo ottenuto integrando una prima volta l'equazione differenziale della linea elastica e che rappresenta la funzione che ci dà le curvature la curvatura punto per punto di questa trave in funzione dell'ascisa z integrando questa funzione otterremo proprio la funzione y z incognita di questa funzione differenziale quindi integriamo quindi la primitiva di y prima y allora P su due volte i termini costanti vanno fuori dal segno di integrazione la primitiva di z al quadrato è questa z al cubo terzi più integriamo il secondo termine e qui sarà c1 per z più la costante c2 quindi ordinando questa è la funzione incognita soluzione di questa equazione differenziale della linea elastica che ci rappresenta proprio la linea elastica cioè la deformata dalla trave però dobbiamo individuare i valori delle costanti c1 e c2 allora noi sappiamo che nel punto B e quindi nel punto di ascissa L la rotazione è 0 e anche l'abbassamento è 0 essendo in B essendoci in B un incastro che impedisce sia la rotazione che il abbassamento e allora cominciamo dalla rotazione l'espressione della rotazione è questa e allora scriviamo P su 2 volte ascissa L quindi L al quadrato più c1 è uguale a 0 e da qui richiamiamo velocemente la costante c1 che sarà uguale a questo ecco quindi abbiamo individuato il valore della c1 costante c1 da questa espressione ricaviamo allora c2 ponendoci nel punto di ascissa Z uguale a L abbiamo che l'abbassamento è nullo quindi quindi tutto questo termine è uguale a 0 sommiamo i primi due termini e abbiamo L al quadrato per L danno L al cubo bene questo è il valore della costante c2 e allora sostituendo i valori di c1 e c2 in questa funzione otterremo l'espressione della linea elastica completa questa è la funzione della linea elastica funzione che si può anche scrivere in questo modo visto che il termine al denominatore EI è comune in tutti e tre questi termini detto questo ricaviamo il valore della rotazione del punto A e dobbiamo utilizzare l'equazione che ci dà proprio la rotazione punto per punto e cioè questa il valore della costante c1 lo conosciamo sostituendo abbiamo il punto A a ascissa z uguale a 0 quindi se vogliamo conoscere la rotazione del punto A mettiamoci nel punto d'ascissa z uguale a 0 abbiamo che y primo nel punto d'ascissa uguale a 0 uguale a P per 0 al quadrato meno ma questo diventa 0 e quindi abbiamo che la rotazione nel punto di ascissa 0 ovvero nel punto A per conoscere l'abbassamento del punto A mettiamoci sempre nel punto quindi di ascissa z uguale a 0 e scriviamo questa equazione dell'abbassamento nel punto A di ascissa z uguale a 0 questi termini si annullano resta che l'abbassamento del punto di ascissa a 0 ovvero nel punto A è uguale a questo valore ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro allora